Un saluto a tutti e le mie congratulazioni alla classe 2005 dei laureati del Canyon College. Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all'altro e incontrano un pesce più anziano che notando in direzione opposta fa loro un cenno di saluto e poi dice «Buongiorno ragazzi, com'è l'acqua?». I due giovani pesci continuano a nuotare per un po' e poi uno dei due guarda l'altro e gli chiede «Ma cosa diavolo è l'acqua?». È una caratteristica comune ai discorsi nelle cerimonie di consegna dei diplomi negli Stati Uniti di presentare una storiella in forma di piccoli apologhi istruttivi. La storia è forse una delle migliori, tra le meno stupidamente convenzionali nel genere. Ma se vi state preoccupando che io pensi di presentarmi qui come il vecchio pesce saggio spiegando cosa sia l'acqua a voi giovani pesci, «Beh, vi prego, non fatelo!». Non sono il vecchio pesce saggio. Il succo della storia dei pesci è solamente che spesso le più ovvie e importanti realtà sono quelle più difficili da vedere e di cui parlare. Espresso in linguaggio ordinario, naturalmente diventa subito un banale luogo comune, ma il fatto è che nella trincea quotidiana in cui si svolge l'esistenza degli adulti i banali luoghi comuni possono essere questioni di vita o di morte. O meglio, è questo ciò che vorrei cercare di farvi capire in questa piacevole mattinata di sole. Chiaramente, l'esigenza principale in discorsi come questo è che si suppone vi parli del significato della vostra educazione umanistica e provi a spiegarvi perché il diploma che state per ricevere ha un effettivo valore sul piano umano e non soltanto su quello puramente materiale. Per questo lasciatemi esaminare il più diffuso stereotipo nei discorsi fatti a questo tipo di cerimonie, ossia che la vostra educazione umanistica non consista tanto nel fornirvi delle conoscenze quanto nell'insegnarvi a pensare. Se siete come me quando ero studente, non vi sarà mai piaciuto ascoltare questo genere di cose e avrete tendenza a sentirvi un po' insultati dall'affermazione che dobbiate aver bisogno di qualcuno per insegnarvi a pensare, poiché il fatto stesso che siete stati ammessi a frequentare un college così prestigioso vi sembra una dimostrazione del fatto che già sapete pensare. Ma vorrei convincervi che lo stereotipo dell'educazione umanistica in realtà non è per nulla offensivo perché la vera educazione a pensare che si pensa si debba riuscire ad avere in un posto come questo non riguarda affatto la capacità di pensare, ma piuttosto la scelta di cosa pensare. Se la vostra assoluta libertà di scelta su cosa pensare vi sembrasse troppo ovvia per perdere del tempo a discuterne, allora vorrei chiedervi di pensare al pesce e all'acqua e a mettere tra parentesi anche solo per pochi minuti il vostro scetticismo circa il valore di ciò che è completamente ovvio. Ecco un'altra piccola storia istruttiva. Ci sono due tizi che siedono insieme al bar in un posto sperduto e selvaggio in Alaska. Uno dei due tizi è credente, l'altro è ateo e stanno discutendo sull'esistenza di Dio con quell'intensità particolare che si stabilisce più o meno dopo la quarta birra. E l'ateo dice guarda non è che non abbia ragioni per non credere. Ho avuto anche io a che fare con quella roba di Dio e della preghiera. Proprio un mese fa mi sono trovato lontano dal campo in una terribile tormenta e mi ero completamente perso e non riuscivo a vedere nulla e facevano 45 gradi sotto zero e così ho provato. Mi sono buttato in ginocchio nella neve e ho urlato. Oddio se c'è un Dio mi sono perso nella tormenta e morirò tra poco se tu non mi aiuterai. E a questo punto nel bar il credente guarda l'ateo con aria perplessa. Bene allora adesso dovrai credere dice sai o non sei ancora vivo? E l'ateo alzando gli occhi al cielo. Ma no è successo invece che una coppia di eschimesi che passava di lì per caso mi ha indicato la strada per tornare al campo. È facile interpretare questa storiella con gli strumenti tipici dell'analisi umanistica. La stessa precisa esperienza può avere due significati totalmente diversi per due diverse persone, avendo queste persone due diversi sistemi di credenze e due diversi modi di ricostruire il significato dell'esperienza. Poiché siamo convinti nel valore della tolleranza e della varietà delle convinzioni, in nessun modo la nostra analisi umanistica vorrà affermare che l'interpretazione di uno dei due tizi sia giusta e quella dell'altro falsa o cattiva. E questo va anche bene, tranne per il fatto che in questo modo non si riesce mai a discutere da dove abbiano origine questi schemi e credenze individuali. Voglio dire da dove essi vengano dall'interno dei due tizi, come se l'orientamento fondamentale verso il mondo di una persona e il significato della sua esperienza fossero in qualche modo intrinseci e difficilmente modificabili, come l'altezza o il numero di scarpe, o automaticamente assorbiti dal contesto culturale, come il linguaggio. Come se il modo in cui noi costruiamo il significato non fosse in realtà un fatto personale frutto di una scelta intenzionale. Inoltre c'è anche il problema dell'arroganza. Il tizio non credente è totalmente certo nel suo rifiuto della possibilità che il passaggio degli eschimesi abbia qualcosa a che fare con la sua preghiera. Certo ci sono un sacco di credenti che appaiono arroganti e anche alcune delle loro interpretazioni. E sono probabilmente anche peggio degli atei, almeno per molti di noi. Ma il problema del credente dogmatico è esattamente uguale a quello del non credente. Una certezza cieca, una mentalità chiusa che equivale ad un imprigionamento così totale che il prigioniero non si accorge nemmeno di essere l'inchiuso. Il punto che vorrei sottolineare qui è che credo che questo sia una parte di ciò che vuole realmente significare insegnarmi a pensare. A essere un po' meno arrogante, ad avere anche solo un po' di coscienza critica su di me e le mie certezze. Perché una larga percentuale di cose sulle quali tendo ad essere automaticamente certo risulta essere totalmente sbagliata e deludente. Ho imparato questo da solo e a mie spese. E così immagino sarà per voi, una volta laureati. Ecco un esempio della totale falsità di qualche cosa su cui tendo ad essere automaticamente sicuro. Nella mia esperienza immediata, tutto tende a confermare la mia profonda convinzione che io sia il centro assoluto dell'universo, la più reale e vivida e importante persona che esista. Raramente pensiamo a questa specie di naturale, fondamentale egocentrismo. Perché è qualcosa di socialmente odioso. Ma in effetti è lo stesso per tutti. È la nostra configurazione di base codificata nei nostri circuiti fin dalla nascita. Pensateci, non c'è nessuna esperienza che abbiate fatto di cui non ne siate il centro assoluto. Il mondo, così come voi lo conoscete, è lì, davanti a voi, o dietro di voi, o alla vostra sinistra o alla vostra destra, sulla vostra tv o sul vostro schermo, e così via. I pensieri e sentimenti delle altre persone devono esservi comunicati in qualche modo, ma i vostri sono così immediati, urgenti, reali. Adesso vi prego di non pensare che io voglia farvi una lezione sulla compassione o la sincerità o altre cosiddette virtù. Il problema non è la virtù. Il problema è di scegliere di fare il lavoro di adattarsi e affrancarsi dalla configurazione di base, naturale codificata in noi, che ci fa essere profondamente e letteralmente centrati su noi stessi, e ci fa vedere e interpretare ogni cosa attraverso questa lente del sé. Le persone che riescono ad adattare la loro configurazione di base sono spesso descritti come ben adattati, che credo non sia un termine casuale. Considerando la trionfale cornice accademica in cui siamo, viene spontaneo porsi il problema di quanto di questo lavoro di autoregolazione della nostra configurazione di base coinvolga conoscenze effettive e il nostro stesso intelletto. Questo problema è veramente molto complicato. Probabilmente la più pericolosa conseguenza di un'educazione accademica, almeno nel mio caso, è che ha permesso di svilupparmi verso della roba super intellettualizzata, di perdermi in argomenti astratti dentro la mia testa, e invece di fare semplicemente attenzione a ciò che mi capita sotto il naso, fare solo attenzione a ciò che mi capita dentro di me. Come saprete già da un pezzo, è molto difficile rimanere consapevoli e attenti, invece di lasciarsi ipnotizzare dal monologo costante all'interno della vostra testa. Potrebbe anche stare succedendo in questo momento. Vent'anni dopo essermi laureato, sono riuscito lentamente a capire che lo stereotipo dell'educazione umanistica che vi insegna a pensare è realmente solo un modo sintetico per esprimere un'idea molto più significativa e profonda. Imparare a pensare vuol dire in effetti imparare a esercitare un qualche controllo su come e cosa pensi. Significa anche essere abbastanza consapevoli e coscienti per scegliere a cosa prestare attenzione e come dare un senso all'esperienza. Perché se non potrete esercitare questo tipo di scelta nella vostra vita adulta, allora sarete veramente nei guai. Pensate al vecchio luogo comune della mente come ottimo servitore, ma pessimo padrone. Questo, come molti luoghi comuni, così inadeguati e poco entusiasmanti in superficie, in realtà esprime una grande e terribile verità. Non a caso gli adulti che si suicidano con armi da fuoco quasi sempre si sparano alla testa. Sparano al loro pessimo padrone. E la verità è che molte di queste persone sono in effetti già morte molto prima di aver premuto il grilletto. E vi dico anche quale dovrebbe essere l'obiettivo reale su cui si dovrebbe fondare la vostra educazione umanistica. Come evitare di passare la vostra confortevole, prosperosa, rispettabile vita adulta come dai morti, incoscienti, schiavi delle vostre teste e della vostra solita configurazione di base, per cui in ogni momento siete unicamente, completamente, imperiosamente soli. Questo potrebbe suonarvi come un iperbole o una strazione senza senso. Cerchiamo di essere concreti. Il fatto pure semplice è che voi laureati non avete ancora nessuna idea di cosa in ogni momento significhi veramente. Questo perché nessuno parla mai in queste cerimonie delle lauree di una grossa parte della vita adulta americana. Questa parte include la noia, la routine e la meschina frustrazione. I genitori e i più anziani di voi sapranno anche troppo bene di cosa sto parlando. Tanto per fare un esempio prendiamo una tipica giornata da adulto e voi che vi svegliate la mattina andate al vostro impegnativo lavoro da colletto bianco laureato all'università e lavorate duro per otto o dieci ore fino a che alla fine della giornata siete stanchi e anche un po' stressati e tutto ciò che vorreste sarebbe di tornarvene a casa, godervi una bella cenetta e forse rilassarvi un po' per un'oretta per poi ficcarvi presto nel vostro letto perché evidentemente dovrete svegliarvi presto il giorno dopo per ricominciare tutto da capo. Ma a questo punto vi ricordate che non avete nulla da mangiare, non avete avuto tempo di fare la spesa questa settimana a causa del vostro lavoro così impegnativo per cui uscendo dal lavoro dovete mettervi in macchina e guidare fino al supermercato. È l'ora di punta e il traffico è parecchio intenso per cui per arrivare al supermercato ci mettete moltissimo tempo e quando finalmente arrivate lo trovate pieno di gente perché naturalmente è proprio il momento del giorno in cui tutti quelli che lavorano come voi cercano di sgusciare in qualche negozio di alimentari. E il supermercato è disgustosamente illuminato e riempito con della musica di sottofondo abbrutente o del pop commerciale ed è proprio l'ultimo posto in cui vorreste essere. Ma non potete entrare e uscire rapidamente, vi tocca vagare su e giù tra le corsie caotiche di questo enorme negozio superilluminato per trovare la roba che volete e dovrete manovrare con il vostro carrello scassato nel mezzo delle altre persone, anche loro stanche e di fretta come voi, con i loro carrelli eccetera eccetera. Si dà un taglio perché è una cerimonia piuttosto lunga e alla fine riuscite a raccogliere tutti gli ingredienti della vostra cena e scoprite che non ci sono abbastanza casse aperte per pagare anche se è l'ora di punta di fine giornata. Così la fila per pagare è incredibilmente lunga che è una cosa stupida e che vi fa arrabbiare. Ma voi non potete sfogare la vostra frustrazione sulla povera signorina tutta agitata alla cassa che è super stressata da un lavoro la cui noia quotidiana e insensatezza supera l'immaginazione di ognuno di noi qui in questa prestigiosa università. Ma in ogni modo finalmente arrivate in fondo a questa fila, pagate per il vostro cibo e vi viene detto buona giornata con una voce che è proprio la voce dell'oltretomba. Quindi dovete portare quelle orrende, sottili buste di plastica del supermercato nel vostro carrello con una ruota impazzita che spinge in modo esasperante verso sinistra, di nuovo attraverso il parcheggio affollato pieno di buche e di rifiuti e guidare verso casa di nuovo attraverso il traffico dell'ora di punta lento intenso pieno di SUV eccetera. A tutti noi questo è capitato certamente ma non è ancora diventato parte della routine della vostra vita effettiva di laureati giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno. Ma lo sarà e inoltre ci saranno tante altre routine apparentemente insignificanti, noiose e fastidiose. Ma non è questo il punto. Il punto è che è proprio con stronzate meschine e frustranti come questa che interviene la possibilità di scelta. Perché il traffico e le corsie affollate del supermercato e la lunga coda alla cassa mi danno il tempo di pensare. E se io non decido in modo meditato su come pensare e a cosa prestare attenzione sarò incazzato e infelice ogni volta che andrò a fare la spesa. Perché la mia naturale configurazione di base è la certezza che situazioni come questa riguardino solo me. La mia fame, la mia stanchezza, il mio desiderio di andarmene a casa. E mi sembrerà che ogni altra persona al mondo stia lì ad ostacolarmi. E chi sono poi queste persone che mi ostacolano? Guardate come molti di loro sono repellenti e come sembrano stupidi e bovini e con gli occhi spenti e non umani nella coda alla cassa. O anche come è fastidioso e volgare che le persone stiano tutto il tempo a urlare nei loro cellulari mentre sono nel mezzo della fila. E guardate quanto tutto ciò sia profondamente e personalmente ingiusto. Oppure, se la mia configurazione di base è più vicina alla coscienza sociale e umanistica, posso passare un bel po' di tempo nel traffico di fine giornata a essere disgustato da tutti questi grossi, stupidi SUV e Hammers e furgoni con motori a 12 valvole che bloccano la strada e consumano il loro costoso, egoistico serbatoi da 40 galloni di benzina. E posso anche soffermarmi sul fatto che gli adesivi patriottici e religiosi sembrano essere sempre più sui veicoli più grandi e più disgustosamente egoistici, guidati dai più brutti, più incoscienti e aggressivi dei guidatori. Attenzione, questo è un esempio di come non bisogna pensare. E posso pensare che i figli dei nostri figli ci disprezzeranno per aver sprecato tutto il carburante del futuro e avere probabilmente fottuto il clima e che tutti noi siamo viziati e stupidi ed egoisti e ripugnanti e che la moderna civiltà dei consumi faccia proprio schifo e così via. Avete capito l'idea? Se scelgo di pensare in questo modo in un supermercato sulla superstrada, va bene, un sacco di noi lo fanno. Tranne che il fatto di pensare in questo modo diventa nel tempo così facile e automatico che non è più nemmeno una vera scelta. Diventa la mia configurazione di base. È questa la modalità automatica in cui vivo le parti noiose, frustranti, affollate della mia vita da adulto, quando sto operando all'interno della convinzione automatica inconscia di essere il centro del mondo e che i miei bisogni e i miei sentimenti prossimi sono ciò che determina le priorità del mondo intero. In realtà, naturalmente, ci sono molti modi diversi di pensare in questo tipo di situazioni. Nel traffico, con tutte queste macchine ferme e immobili davanti a me, non è impossibile che una delle persone nei SUV abbia avuto un orribile incidente d'auto nel passato e adesso sia così terrorizzata dal guidare che il suo terapista le ha ordinato di prendere un grosso e pesante SUV, così che possa sentirsi abbastanza sicura quando guida. O che quell'hammer che mi ha appena tagliato la strada sia forse guidato da un padre il cui figlio piccolo è ferito o malato nel sedile accanto a lui e stia cercando di portarlo in ospedale e abbia quindi legittimamente molto più fretta di me. In effetti sono io che blocco la sua strada. Oppure posso sforzarmi di considerare la possibilità che tutti gli altri nella fila alla cassa del supermercato siano stanchi e frustrati come lo sono io e che alcune di queste persone probabilmente abbiano una vita molto più dura, noiosa e dolorosa della mia. Di nuovo vi prego di non pensare che vi stia dando dei consigli morali o vi stia dicendo che dovreste pensare in questo modo o che qualcuno si aspetti da voi che lo facciate. Perché è difficile, richiede volontà e fatica e se voi siete come me in certi giorni non sarete capaci di farlo o più semplicemente non ne avrete voglia. Ma molte altre volte se sarete abbastanza coscienti da darvi la possibilità di scegliere voi potrete scegliere di guardare in un altro modo a questa grassa signora super truccata e con gli occhi spenti che ha appena sgridato il suo bambino alla coda alla cassa. Forse non è sempre così, forse è stata sveglia per tre notti di seguito tenendo la mano del marito che sta morendo di cancro alle ossa. O forse questa signora è l'impiegata meno pagata della motorizzazione che proprio ieri ha aiutato vostra moglie a risolvere un orribile e snervante problema burocratico con alcuni piccoli atti di gentilezza amministrativa. Va bene, nessuno di questi casi è molto probabile, ma non è nemmeno completamente impossibile. Dipende da cosa volete considerare. Se siete automaticamente sicuri di sapere cos'è la realtà e state operando sulla base della vostra configurazione di base, allora voi come me probabilmente non avrete voglia di considerare possibilità che non siano fastidiose e deprimenti. Ma se imparate realmente a concentrarvi, allora saprete che ci sono altre opzioni possibili. Avrete il potere di vivere una lenta, calda, affollata esperienza da inferno del consumatore e renderla non soltanto significativa, ma anche sacra, ispirata dalle stesse forze che formano le stelle. Amore, amicizia, la mistica unità di tutte le cose fuse insieme. Non che la roba mistica sia necessariamente vera. La sola cosa che è vera con la V maiuscola è che sta a voi decidere di vederlo o meno. Questa, credo, sia la libertà data da una vera educazione. Di poter imparare ad essere ben adattati. Voi potrete decidere con coscienza che cosa ha significato e che cosa non lo ha. Potrete scegliere in cosa volete credere. Ed ecco un'altra cosa che può sembrare strana, ma che è vera. Nella trincea quotidiana in cui si svolge l'esistenza degli adulti non c'è posto per una cosa come l'ateismo. Non è possibile non adorare qualcosa. Tutti credono. La sola scelta che abbiamo è su che cosa adorare. E forse la più convincente ragione per scegliere qualche sorta di Dio o una cosa di tipo spirituale da adorare, sia essa Gesù Cristo o Allah, sia che abbiate fede in Geova o nella Santa Maria Vicca o nelle quattro nobili verità o in qualche inviolabile insieme di principi etici, è che praticamente qualsiasi altra cosa in cui crederete finirà per mangiarvi vivo. Se adorerete il denaro o le cose, se a queste cose affiderete il vero significato della vita, allora vi sembrerà di non averne mai abbastanza. È questa la verità. Adorate il vostro corpo e la bellezza e l'attrazione sessuale e vi sentirete sempre brutti. E quando i segni del tempo e dell'età si cominceranno a mostrare, voi morirete un milione di volte prima che abbiano ragione di voi. A un certo livello tutti sanno queste cose. Sono state codificate in miti, proverbi, luoghi comuni, epigrammi, parabole. Sono la struttura di ogni grande racconto. Il trucco sta tutto nel tenere ben presente queste verità nella coscienza quotidiana. Adorate il potere e finirete per sentirvi deboli e impauriti e avrete bisogno di avere sempre più potere sugli altri per rendervi insensibili alle vostre proprie paure. Adorate il vostro intelletto, cercate di essere considerati intelligenti e finirete per sentirvi stupidi, degli impostori, sempre sul punto di essere scoperti. Ma la cosa insidiosa di queste forme di adorazione non è che siano cattive o peccaminose. È che sono inconsce. Sono la configurazione di base. Sono forme di adorazione in cui scivolate lentamente, giorno dopo giorno, diventando sempre più selettivi su quello che volete vedere e su come lo valutate, senza essere mai pienamente consci di quello che state facendo. E il cosiddetto mondo reale non vi scoraggerà dall'operare con la configurazione di base, perché il cosiddetto mondo reale degli uomini e del denaro e del potere canticchia allegramente sul bordo di una pozza di paura e rabbia e frustrazione e desiderio e adorazione di sé. La cultura contemporanea ha imbrigliato queste forze in modo da produrre una ricchezza straordinaria e comodità e libertà personale. La libertà di essere tutti dei signori di minuscoli regni, grandi come il nostro cranio, soli al centro del creato. Questo tipo di libertà ha molti lati positivi, ma naturalmente vi sono molti altri tipi di libertà e del tipo che è il più prezioso di tutti. Voi non sentirete proprio parlare nel grande mondo esterno del volere, dell'ottenere e del mostrarsi. La libertà del tipo più importante richiede attenzione e consapevolezza e disciplina e di essere veramente capaci di interessarsi ad altre persone e a sacrificarsi per loro più e più volte ogni giorno in una miriade di modi insignificanti e poco attraenti. Questa è la vera libertà. Questo è essere istruiti e capire come si pensa. L'alternativa è l'incoscienza, la configurazione di base, la corsa al successo, il senso costante e lancinante di aver avuto e perso qualcosa di infinito. Lo so che questa roba probabilmente non vi sembrerà molto divertente o ispirata come un discorso per questo genere di cerimonie dovrebbe sembrare. In questo consiste però, per come la vedo io, la verità con la V maiuscola, scrostata da un sacco di stronzate retoriche. Certamente siete liberi di pensare quello che volete di tutto questo, ma per favore non scartatelo come se fosse un sermone a monitorio alla dottor Laura. Niente di questa roba è sulla morale o la religione o il dogma o sul grande problema della vita dopo la morte. La verità con la V maiuscola è sulla vita prima della morte, è sul valore reale di una vera istruzione che non ha quasi nulla a che spartire con la conoscenza, è molto a che fare con la semplice consapevolezza, consapevolezza di cosa è reale ed essenziale, ben nascosto, ma in piena vista davanti a noi, in ogni momento, per cui non dobbiamo smettere di ricordarci più e più volte «questa è l'acqua, questa è l'acqua». È straordinariamente difficile da fare, rimanere coscienti e consapevoli nel mondo adulto in ogni momento. Questo vuol dire che anche un altro dei grandi luoghi comuni finisce per rivelarsi vero. La vostra educazione è realmente un lavoro che dura tutta la vita e comincia ora. Auguro a tutti una grossa dose di fortuna.